Venerdì 25 giugno 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la resegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta Facebook attraverso il canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in Viacvortre a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani Il Gazzettino e Il Corriere delle Alpi. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine. Cominciamo con Il Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi. Rincaro dell'8% sui rifiuti, un dazio sui sacchetti in più. Tutto questo arriva dal capoluogo bellunese, arriva la tariffa puntuale, aumenti maggiori per i single, bonus per le famiglie con bimbi e i disabili, utenze non domestiche, mazzata per gli ipermercati, più 18%. Il sindaco Massaro restiamo sotto le medie. Caro rifiuti, nel 2021 le famiglie beronesi pagheranno in media l'8% in più di quanto hanno versato nel 2019. L'anno scorso infatti le tariffe vennero congelate in virtù della pandemia Covid-19 e attenzione alla differenziata, buttare via troppo secco comporterà ulteriori aumenti perché il comune non può più rinviare l'applicazione della tariffa puntuale. L'approfondimento di Forzine lo troveremo a pagina 15. A fondo CGL le fabbriche assumono ma contratti depotenziati. Mauro De Carli, segretario della CGL, denuncia qualche stranezza di questa ripresa del manifatturiero in provincia. E ancora Belluno, astucci e pezze, made in carcere, lavoro strappato alla Romania, stipendio, TFR, malattie pagate, una quarantena di detenuti, sforna 7 milioni di pezzi all'anno per l'occhialeria. L'approfondimento a pagina 16. Igne, altra vittima del pontile, mamma Giulia non si dà pace. Lo sfogo della mamma della ragazza di Igne hanno persino tolto un sasso che aveva posato per segnalare il pericolo. L'approfondimento lo troveremo a pagina 26. Belluno, DJ e discoteche ci provano, feste di nozze per ripartire. Domani sera riapre lo Giador a Belluno ma ancora non si può ballare. E i DJ sono fiduciosi ma dubbiosi sui tempi della ripartenza. La foto di copertina invece riguarda il trasporto bellunese. Il bus risparmia 7 minuti per la spesa odissea di 11 ore. Le sorelle Germana e Franca, 83 e 81 anni, abitano nella frazione di Rennes sopra l'Ambroi. Per andare ad Agordo devono partire alle 7 per rientrare alle 17.50. L'approfondimento di Santo Maso a pagina 57. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda la tragedia che ha scosso l'intera regione Veneto. L'orecchio mozzato di Elisa come trofeo. L'assassino di Moriago l'ha consegnato ai carabinieri per provare il delitto appena commesso. L'approfondimento lo troveremo a pagina 11. Questa è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Incominceremo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno. Ecco la prima pagina del Gazzettino. Titolo in primo piano. Pandemia, gli affari sporchi. L'allarme nella relazione di Banca Italia sospette frodi per 8 miliardi. 2.277 alert nel business del Covid anche molti politici. Ora la criminalità punta i fondi del recovery. L'approfondimento di Bassi a pagina 5. E a proposito di coronavirus, il focus variante indiana così casi aumentati di 10 volte. In un mese anche in Italia l'incidenza della variante Delta è decuplicata. Ammette il generale Figliuolo, preoccupa tutti ma sappiamo che le persone che hanno ricevuto tutte e due le dosi sono protette dall'ospedalizzazione. L'approfondimento lo troveremo a pagina 2. Sospetto estremista islamico preso con 22 kg di coca, fermato al casello di Meolo, la droga nascosta in un doppio fondo dell'auto. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino, Ateneo di Padova, lezioni per imam per prevenire la radicalizzazione. A Padova, 60 tra imam e ministri di culto musulmani da oggi seguiranno il corso dell'Ateneo Patavino, l'obiettivo prevenire la radicalizzazione. Mira, troppi morti Covid, va ampliato il cimitero e la foto di copertina del Gazzettino riguarda la tragedia avvenuta due giorni fa e che ha scosso l'intero Veneto, Elisa, 20 coltellate a caso. E si vede in questo scatto Fabrizio Biscoro che attualmente è in cella accusato dell'omicidio di Elisa Campeola. L'approfondimento lo troveremo a pagina 11. Richiamo anche per quanto riguarda il Gazzettino di Belluno, vaccini in farmacia si comincia fra 20 giorni. L'approfondimento a firma di Piol lo troveremo a pagina 5 dell'inserto bellunese. Adentriamoci all'interno del Gazzettino, prima notizia a pagina 2, vola la variante Delta. I casi sono aumentati di 10 volte in un mese. In campagna oltre 80 casi, allarme in tutta Europa. Piano per potenziare i tracciamenti, nel nord-est resta prevalente la variante inglese, rasi servono più sequenziamenti. I positivi allo stadio, testa a tappeto su 4.000 tifosi danesi, tre spettatori del match degli europei da rimarca belgio, positivi alla variante Delta, 4.000 tifosi richiamati per i test. Guardate, questa foto vuol dire tutto, nel senso tutti ammassati, nessuno con la mascherina. Cosa vuoi che avvenga? In campagna oltre 80 casi, allarme in tutta Europa, piano per potenziare i tracciamenti e a maggio, nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, la mutazione indiana rappresentava solo l'11% dei casi. L'intervista a Massimo Ciccozzi, ceppo molto contagioso per fermarlo subito, urgente fare molti più test, l'epidemiologo in Italia ancora non è presente come in Inghilterra, ma sicuramente è sottostimato la dichiarazione appunto di Massimo Ciccozzi dell'Università Campus Biomedico di Roma. Sintomi, rischi e reparti, le regole per il ricovero, clinici e docenti del nord-est nel gruppo voluto da Agenas per orientare le regioni, dall'età alla sottorazione, le indicazioni di chi ha combattuto il Covid sul campo. Dopo 500 giorni di buio e di visioni, i medici mostrano di essere concordi sulle linee di cura per i pazienti. E l'effetto della pandemia sui decessi, a Mira si ingrandiscono i cimiteri, uno dei comuni veneti più martoriati, soprattutto nella seconda ondata, intere famiglie sono state travolte. Continuiamo con il gazzettino. Un ulteriore approfondimento in merito all'emergenza Covid-19. La relazione dell'UIF, mascherine aiuti pubblici, sospette frodi per 8 miliardi nel business della pandemia. Scattati i 2.277 alert tra chi ha fatto affari con il Covid, ci sono anche politici clemente. Adesso la criminalità punta alle risorse del recovery plan. Le segnalazioni totali nel 2020 all'Ufficio per le informazioni finanziarie hanno raggiunto 215 miliardi. E sempre per quanto riguarda il Covid-19, la polemica, la Cina ha nascosto i suoi primi campioni, nuovo giallo sull'origine del virus e su quanto è successo a Wuhan, scienziato degli Stati Uniti denuncia, depistate le indagini sulla prima circolazione. Lo scontro nei 5 stelle, cambiamo argomento, politica che troviamo a pagina 7, Grillo, un siluro a Conte, lui non è il movimento. Incursione del fondatore a Roma contro l'ex premier, è senza visione il gelo dell'avvocato e dei fedelissimi, potrebbe decidere di sfilarsi dal progetto. Il retroscena, ancora politica, Zaia Salvini è tregua armata dopo i malumori della base, faccia a faccia a Roma tra governatore e segretario, la Lega e le tensioni al centro, Veneto e partito. Con il confronto anche sull'autonomia, il presidente incontra a Mattarella, richiesta valida e forte. In conferenza Stato-Regione, ok all'intesa sui fondi per il Covid, al Veneto 197 milioni e al Friuli Venezia Giulia 39. Fedriga, presidente appunto della regione Friuli Venezia Giulia, c'è collaborazione. E i tricolori nell'ufficio del leader, Matteo Salvini, posa con Luca Zaia, ma anche con tanti tricolori fra bandiera e mascherina. Fatti di attualità, la coca del sospetto estremista islamico, la Guardia di Finanza, ha fermato l'auto di un francese di origini magrebine, già segnalato per possibili collegamenti con ambienti della Jihad. Dopo lo stop al casello di Meolo, la vettura è stata smontata e sono spuntati 22 chili di droga per un valore di circa 8 milioni di euro. Il fatto è accaduto a Mestre. E ancora dal Veneto, la tragedia, il coltello dell'omicidio acquistato la sera prima. Gli investigatori stanno ricostruendo gli spostamenti di Biscaro nelle 24 ore precedenti il massacro di Elisa. L'acquisto della lama potrebbe aggravare la posizione. Avevo una grande rabbia da sfogare, ha detto al PM. Siamo a fara di Soligo Treviso. Resta il momento nel carcere di Treviso. Il 34enne Fabrizio Biscaro, accusato di omicidio aggravato per aver massacrato con 20 coltellate, la 35enne Elisa Campeol. Al momento non gli viene contestata la premeditazione, ma il fatto di essere uscito di casa a martedì pomeriggio con uno zaino e di aver acquistato poco dopo in un supermercato di Valdobbiade nel coltello usato per il delitto potrebbe ampliare lo scenario delle accuse a suo carico. Nel frattempo, gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli i suoi spostamenti nelle 24 ore in cui di lui si sono perse le tracce. Dal primo pomeriggio di martedì a quello di mercoledì quando si è presentato in caserma per costituirsi. Le celle agganciate dal suo cellulare saranno scandagliate, così come le telecamere fra Colsa Martino, Moriago e Valdobbiadene. Prende sempre più corpo l'ipotesi che sul Gretto del Piave a Moriago abbia colpito a caso, poteva capitare a chiunque. La sera di martedì i genitori non lo avevano visto rincasare e avevano avvertito i carabinieri. Fabrizio, il disagio e le cure sospese, il prefetto, più controlli sui malati. Dopo anni di terapia, non frequentava più il centro di salute mentale, l'equilibrio del 34enne di Farra è andato in pezzi. Fatti di carattere internazionale, l'emergenza sbarchi, soldi al Nord Africa, la UE sceglie di pagare per fermare i migranti. Sul tavolo 8 miliardi, il vertice dei 27 rifugiati gestiti nella regione di origine. Entro ottobre, le proposte di Bruxelles sugli attraversamenti illegali e rimpatri. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. Incominciamo con pagina 2. Ecco la notizia messa in primo piano riguarda la Camera di Commercio di Belluno a Treviso. Pozza, freddo e meccatronica ora trainano la ripartenza. Il presidente della Camera di Commercio, le aziende che hanno investito nella digitalizzazione sono cresciute. Rimane il paradosso del legno, esportiamo i tronchi e compriamo care le tavole. Questa la dichiarazione di Mario Pozza, che guida per il suo secondo mandato la Camera di Commercio di Belluno a Treviso. La CGL in piazza, non sbloccati i licenziamenti, decarli, far fruttare le risorse per far ripartire l'economia e i redditi. Questa la sua dichiarazione. Aldo Caffiero, Salcemi 197, il futuro lo vedo roseo nel settore moda, la ripartenza in realtà, i primi segnali già nel mese di dicembre. Azienda in città, in Cina, a Guangdong. I cinesi mettono al primo posto il lavoro e questa è un'intervista che troverete in questa edizione del Gazzettino di Belluno. E per quanto riguarda il mondo dell'imprenditoria bellunese, De Bona punta a chiudere il 2021 con un giro d'affari da mezzo miliardo. L'azienda come committenti, l'azienda storica è la De Bona Motors, azienda storica di concessionaria di vendita di auto in provincia di Belluno, ma non solo. L'attoniere, il lavoro che fanno in pochi, da noi il telefono squilla a tutte le ore. Partito nel garage di casa con mio fratello, ora vedo un percorso che continua. Insomma, una pagina dedicata all'imprenditoria bellunese. La troverete a pagina 3 di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Pagina 5, vaccini farmacia, corso prima di iniziare. Tra 20 giorni il via alle immunizzazioni sul territorio, ma soltanto per i pazienti che non hanno patologie alle persone over 60 a cui è destinato il monodose, che non si sono ancora sottoposte, verrà inviata una lettera. Autolesionismo in carcere, 105 casi da inizio anno. La celebrazione è avvenuta, la celebrazione è riferita ai 204 anni della polizia penitenziaria, ha portato questi dati riferiti alla casa circondariale di Belluno. Addio, il volo d'addio del bivacco Sperti. La vecchia struttura sulla schiara è stata rimossa in blocco con l'elicottero e depositata a Coll di Ruana. I volontari CAI hanno iniziato il getto di cemento per installare il nuovo rifugio realizzato in ferro. Ed ecco uno scatto del bivacco Sperti che è stato rimosso ieri con un elicottero. Allì i lavori per sostituire la capanna con quella nuova già pronta. Caleipo cerca un nuovo gestore per riaprire il barco operativo. il paese senza un riferimento dopo l'addio di Demine. Siamo stati in trattativa con due persone ma senza esito questo esercizio ha grandi potenzialità. Feltre riabilitato l'ex carabiniere non ci fu alcuna estorsione. Paolo Ferraro esce a testa alta in appello dopo la condanna a cinque anni in primo grado. L'anziana presunta vittima riconosciuta inattendibile a causa del declino cognitivo. Notizia di spalle aperta la mostra che sia un inno alla manualità. Ieri il via in sala degli stemmi l'obiettivo è riscoprire l'artigianato. Ovviamente parliamo della mostra dell'artigianato che si sta svolgendo a Feltre. Casa Facceni in arrivo il vano scale per salire al museo siamo alla Mon approvato il progetto per 60 mila euro di spesa ora si passa all'appalto e ancora dal Feltrino rifiuti Valpe Bellunum da gennaio si volta pagina tutti i comuni hanno ormai definito a chi affidare servizio di raccolta in autunno il cambio dei cassonetti resta aperto il nodo delle seconde case Querovas rivivi le valle compie dieci anni grazie del presidente Mondin a tutti i soci e volontari del sudalizio Santa Giustina il comune assume un responsabile di area tecnica per maggiori informazioni visitate il sito del comune di Santa Giustina e adesso politica elezioni quattro liste e la Lega cambia a cavallo il carroccio molla il suo rappresentante di minoranza in consiglio per appoggiare l'assessore Alberto Peterle l'amarezza dell'escluso Bortoluzzi abbiamo criticato questa giunta diventa difficile ora farne parte valuterò il candidato del centrodestra ho già ricevuto l'appoggio anche di Fratelli d'Italia e di Forza Italia diamo uno sguardo a questi volti centrodestra l'assessore al bilancio Alberto Peterle l'unica donna la vice sindaca Vanessa De Francesche per la civica Filippo Sitrana ha già confermato il suo impegno l'ex sindaco Attilio Dal Paus già amministratore di Farra altro approfondimento invece purtroppo per quanto riguarda la tragedia avvenuta due giorni fa in Val di Zoldo la morte di Anna Maria un colpo al cuore per tutta la comunità e a Longarone si è spenta la moglie dell'ex sindaco e mamma del preside del Lullino Mariangela Collarino 80 anni era ricoverata per crisi respiratoria era ricoverata da domenica a San Martino di Belluno ma niente lasciava intuire che la crisi respiratoria da cui era stata colpita poteva esserle fatale ed invece eri mattina è mancata Mariangela Collarino 80 anni moglie di Gioacchino Bratti già sindaco di Longarone la donna risiedeva a FAE ma era originale di Polpet di Ponte nelle Alpi anche l'associazione Beronesi nel mondo si stringe attorno al suo presidente onorario Gioacchino Bratti per la perdita della moglie una famiglia unita quella di Gioacchino e Mariangela scrive in una nota l'ABM una vita assieme durata ininterrotamente 58 anni l'attuale presidente ABM Oscar De Bono aggiunge sono davvero dispiaciuto per la scomparsa di Mariangela era una persona di grande spessore vicina con discrezione alle molteplici attività dell'ABM quando Gioacchino era presidente torna la notte romantica Mel tra arte orafa aperitivi e cene evento proposto dal club di Borghi più belli d'Italia siamo nel comune di Borgo Valbelluna pagina 11 incubo frane sulla strada pronta l'alternativa a Mass un ex silvopastorale adattata a viabilità d'emergenza se si chiude la provinciale la soddisfazione del sindaco Lucchetta progetto inseguito a lungo ora è realtà notizia che ci porta nel comune di Vallada notizia di spalle volo di 8 metri dall'impalcatura grave il 59enne Enzo Masocco operato a Udine dopo l'infortunio di mercoledì Cadore i paesi in pericolo Vinigo il borgo con l'anima che arrivava fino a Cortina l'antica storia della frazione in comune di Vodo affonda in tradizioni ladine venete regogliere nel 1700 contava 1000 abitanti oggi meno di 100 si trova su un pianoro tra l'antelao e il Monterite la proprietà vinighese comprendeva la valla Travenanzes la valle della Vergogna voluta come riscatto dal Lampezzo nel Natale del 1940 un incendio distrusse la parte centrale del villaggio lì oggi ci sono orti rigogliosi coltivati a cappucci strade chiuse e paese blindato siamo a Perarolo di Cadore 800 kg di tritolo contro la frana oggi l'operazione di alleggerimento del corpo franoso che minaccia case e fiume Anna schiude la Cavalera mentre il centro sarà transennato e le abitazioni evacuate ed ecco la frana sotto monitoraggio continuo da anni ormai rappresenta un grande problema per l'abitato di Perarolo sempre dal Cadore a Oronzo tre cime ancora chiuse il cantiere chiede tempo slitta alla 29 l'apertura della strada alpina la novità treno più bus passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno per leggere le notizie riferite alla provincia di Belluno la prima notizia la troviamo a pagina la troviamo andiamo avanti a pagina 15 caro rifiuti le bollette aumentano dell'8% spese extra per chi accede con il secco questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi il Corriere delle Alpi entra in vigore la tariffa puntuale il sindaco Massaro sindaco del capoluogo bellunese le tariffe di Belluno restano comunque più basse della media il costo per famiglia si determina sommando quota fissa e quota variabile leggiamo questo esempio di conto annuale rispettando gli svuotamenti massimi del secco abitazione di 70 metri quadri con una persona 91,25 euro il costo della tariffa immondizie con due persone 119,32 euro per quattro persone 161,27 euro abitazione di 120 metri quadrati per una persona 115 euro per due persone 147,147 euro per quattro persone 195 euro per quattro persone questa la stima riferita al costo della tariffa delle immondizie per quanto riguarda il capoluogo bellunese prevista agevolazioni per le famiglie con bambini piccoli anziani o disabili utenze non domestiche un salasso per i negozi di generi alimentari rincari a bar e ristoranti pagina 16 astucci da occhiali made in carcere lavorazioni strappate alla Romania stipendio TFR malattie pagate una quarantina di detenuti sforna 7 milioni di pezzi all'anno il progetto curato dalla cooperativa sviluppo e lavoro commesse dalle imprese del territorio il presidente Borgato con questa attività i ragazzi si costruiscono una seconda occasione davvero una notizia interessante e importante anche per questa realtà che si trova in provincia di Belluno e a proposito di carcere i dati di Baldenic penitenziaria buco di 15 agenti nel 2020 9 9 aggressioni avvenute nel carcere bellunese pagina 17 lavoro assunzioni a raffica nelle fabbriche ma gli ingegneri il contratto molti servizi Mauro De Calli segretario della CGL denuncia qualche stranezza di questa ripresa del manifatturiero in provincia questa è un'intervista che troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi la manifestazione pensionati mobilitati anche la spia Torino mobilitazione dei pensionati dello SPI CGL alla manifestazione di domani a Torino in Piazza Castello lo slogan ripartiamo insieme con il lavoro la coesione e la giustizia sociale per l'Italia patronato assegni per famiglie CISL pronta alle pratiche e andiamo avanti con il Corriere delle Alpi pagina 19 Giador riapre ballo vietato ma si torna a stare insieme da domani in sera torna a respirare la discoteca di Salce sabato sera dopo ben 16 mesi riapre lo Giador la nota discoteca di Viacol di Salce l'ha comunicato tramite una storia sul proprio profilo Instagram ci saranno posti limitati musica solo d'ascolto e non si potrà ancora ballare e i DJ provano a guardare al futuro prima occasione le feste di nozze i professionisti della console sperano in luglio ma non sarà immediato a tornare alle atmosfere pre-covid 20 pagina 20 covid nel bellunese tamponi drive-in ospedale seconda dose di vaccino ai turisti in vacanza lunga e ancora martore canyon fossili 100 escursioni gratuite per scoprire il parco un'estate nell'area protetta e a proposito ancora di turismo il bikes bus attivato oltre le tre cime con cortina express pagina 21 lodi negli istituti Calvi e Regnier segato altri due maturi con 100 pubblicati i risultati di stato in altre quattro classi cittadine voti mediamente alti la quinta B di scienze umane porta sul podio tre studentesse tutto questo per quanto riguarda i neodiplomati in provincia di Belluno fiori d'arancio in tribunale il giudice Zantedeschi si sposa trasloco per amore il primo luglio il giudice Edoardo Zantedeschi a destra lo vedete in questo scatto sposerà la storica fidanzata bond ora cederare sulle varianti il Bobbo Olimpiadi 2026 40 milioni per cortina e andiamo avanti con l'edizione del Corriere delle Alpi siamo a pagina 23 mostra dell'artigianato siamo a feltre nel segno della manualità in sala degli stemmi la cerimonia che ha aperto l'edizione numero 35 per Enzini il sindaco abbiamo in progetto di rilanciare le botteghe nel centro storico sempre da feltre servizio mensa bando per due anni scolastici in otto tra asili e scuole e ancora domande entro il 21 luglio all'Enac corso gratuito per disoccupati dedicato alle materie plastiche pagina 24 Aizam tutti in campo alleanza per scongiurare la sospensione di psichiatria riunione tra le associazioni l'obiettivo è diventare interlocutori dell'USL diversi sindaci hanno chiesto la convocazione urgente della conferenza fino al 13 luglio il servizio ha assicurato l'azienda cerca di arruolare psichiatri corte d'appello siamo sempre a feltre estorsione a un'anziana il carabiniere assolto otto anni dopo l'acquerela Cesio Maggiore si mettono in sicurezza le sponde sul caurame all'abusa di Soranzè passiamo a pagina 25 la mono ufficio tecnico due assunzioni per superare l'emergenza finalmente il comune può rimettere a posto l'organico a lungo carente a fine mese cambio della guardia se ne va il segretario Pucci e arriva De Vidi volontariato di Belluno e Treviso Unito due anni per ottimizzare l'energia l'appuntamento regionale di Anteas in Bereria Pedavena c'era anche Alberto Franceschini da gennaio a capo del CSV pagina 26 un anno dopo Silvia morto un altro giovane peschiera non chiude il pontile assassino lo sfogo della mamma della ragazza di Igne hanno persino tolto un sasso che aveva posato per segnalare il pericolo Silvia Doriguzzi e Diom Ablu Aziz la prima 19 anni il secondo 23 la prima aveva lasciato Igne in comune di Longarone per lavorare in un bar peschiera del Garda il secondo era emigrato dal Senegal a Padova a distanza di un anno uno dall'altro entrambi hanno trovato la morte tuffandosi dal pontile del Lido dei Pioppi sul lago di Garda la parola coincidenza con cui si potrebbe derubricare questa storia raccontata da Giulia Zambon la mamma di Silvia in un lungo comprensibile amaro sfogo vuol dire che qualcosa accade insieme sì Silvia e Diom sono caduti assieme entrambi a metà giugno mossi dalla voglia di un bagno per cercare sollievo in una notte o in un pomeriggio d'inizio estate anche le coincidenze danno sollievo quasi contenessero l'ineluttabile del destino e l'impossibilità per gli uomini di intervenire e di modificare era scritto si dice spesso era destino così le responsabilità svaniscono questa la dichiarazione della mamma appunto di Silvia Doriguzzi in questo scatto vediamo un bellissimo sguardo di Silvia i fiori sul punto della tragedia e il sasso che aveva decorato e posizionato la madre che leggendo il titolo è stato tolto Longarone la cultura al centro dell'estate il fulcro è l'area il fulcro scusate è l'area dei murazzi e andiamo avanti con pagina 27 questa è la notizia che ha aperto come foto di copertina il bus risparmia sette minuti ma per Germana e Franca andare a fare spesa così è una odissea di 11 ore le sorelle 83 e 81 anni abitano nella frazione di Rennes sopra l'Ambroi per andare ad Agordo devono partire alle sette per rientrare alle 17.50 c'è un film che si intitola sette minuti cioè quelli che un'azienda vuole sottrarre alla pausa pranzo di alcune lavoratrici che nel tempo hanno visto erosi i propri diritti poco più di sette minuti sono anche quelli che una corriere impiega da Tiser all'Ambroi in comune di Gosaldo un tempo che incide sul diritto di cittadinanza delle sorelle Germana e Franca Rehn 83 e 81 anni abitano a Rehn frazione del comune di Gosaldo lungo la valle del Miss dove non ci sono negozi e servizi di alcun tipo Germana vive qui durante i mesi estivi Franca tutto l'anno se vogliono fare la spesa o accedere ad alcuni servizi ospedale farmacie medico condotto poste devono recarsi ad Agordo a Rivabonte ma Germana e Franca non hanno l'auto i figli sono lontani l'unico modo per raggiungere i centri e salire su un autobus semplice si fanno trovare pronte alle 7 alla fermata di Lambroi Baeta e alle 7.35 sono ad Agordo fanno tutto quello che devono fare e poi si recano in autostazione per tornare a casa ma se intendono contare solamente sulle corriere di Dolomiti Bus a Lambroi ci arriveranno alle 17.50 Il calendario 2021 porta 3.600 euro indotta all'asilo altra notizia che ci porta a Tambre e adesso invece un'altra storia che troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi quattro pastori abruzzesi arrivano a Rocca Pietore aiuteranno un allevatore a tenere lontani i lupi Isidoro Furlan il biologo semenzato sono andati a prenderli all'Aquila da 2000 anni hanno sviluppato l'istinto a proteggere le greggi ed ecco i quattro cuccioli di pastore abruzzese che arriveranno oggi in Agordino sotto Isidoro Furlan e vedremo appunto come svolgeranno il loro dovere sicuramente lo svolgeranno alla grande altre notizie flash notte dedicata all'amore nei borghi più belli d'Italia il focus di Mel è sull'arte Agordo Pappagallo scappa ripreso dai vigili Ponte nelle Alpi AAA offresi ancora poste disponibili l'iniziativa del comune di Ponte nelle Alpi per il volontariato giovanile Cortina ex stazione Raffica di No comitato civico scatenato depositate le osservazioni all'opera da 81 milioni prevista in progetto di finanza sperpero di suolo pubblico dubbi benefici per il comune paesaggi martoriati e questa è una ricostruzione del progetto che dovrebbe riqualificare l'ex stazione che è a Cortina Cortina turista letto ne si perde trovata da Sajf e Knsas ovvero soccorso alpino Calalzo lavori all'elementare al via 300 mila euro per la sicurezza anche il correre delle Alpi dedica spazio alla frana presente nel centro di Perarolo tutti via di casa alle 12 nel raggio di 200 metri confermate tutte le prescrizioni l'operazione di disgaggio con l'esplosivo sulla frana dell'abuso del Cristo finirà verso le 16 Pieve di Cadore asilo estivo avvio legato ai numeri servono 20 bambini e ancora da Pieve di Cadore per il coro Cadore la grande emozione del ritorno in piazza ed ecco un momento dell'esibizione di domenica del coro Cadore ancora Oronzo test contro la Triestina il 24 luglio per la Lazio tre richiedenti asilo a Pieve Pieve di Cadore volere più buoni pasto non è violenza privata passiamo alla rubrica cultura e società la storia il misterioso viaggio dal Cadore a Londra dell'altare di Poche sparito nell'ottocento da San Floriano di Zoldo è finito a Victoria Albert Museum la vicenda ricostruita nel libro della ricercatrice Lonzi ed ecco appunto alcuni scatili che rappresentano l'altare ritrovato a Londra a fianco il restauro di quello di Pozzale e il libro appunto dedicato a questa opera bellunese per la rubrica giorno e notte il Dante di Damerini al chiostro del seminario viaggio ideale in 18 tele fino al codice Loliniano si aprirà il 18 luglio l'esposizione dell'artista bellunese al seminario un percorso pittorico fra i passi salienti della Divina Commedia Libri Dolomiti Abe in presenza Malaguti apre la stagione Selva di Cadore e la Selce il suo utilizzo domani al Museo Cazzetta Passiamo allo sport bellunese l'evento a Pezzano Cortina Sky Race Antipasto della Labaredo Ultra Trail 300 atleti ieri sera al Via per la gara che ha aperto il lungo fine settimana il successo allo spagnolo Alex Garcia Carillo e alla Vicentina Marta Fabris Atletica 6 bellunesi da oggi a Rovereto in cerca del titolo italiano assoluto nuoto sincronizzato le sincronette della sportivamente vicinissime al podio altri colori UISP calcio prima categoria l'Alpina Longarone annuncia Andrea Sitta per il calcio di Serie D verso le Dolomiti bellunesi Polzotto medita un clamoroso addio mediazioni nella notte con la società il patrone dei talenti era ieri a cena con Lazzari e Perissinotto con Sportful è lo sponsor maggiore della nuova realtà calcistica e il Fury Bar diventa satellite della fusione il presidente fan potrebbe entrare nel CDA e molti juniors del San Giorgio Sedico giocheranno con la squadra di Mass sul mercato oltre al sogno masocche è concreta la voce che porta a pilotti passiamo alle previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani prima di salutarci cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sui monti e sulle zone pedemontane del Vicentino e del Trevigiano di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso e nuvoloso precipitazioni sulla pianura assenti sui monti probabilità bassa per locali piovaschi venti deboli moderati sulla pianura fino al mattino in prevalenza da nord-est mare poco mosso fino al mattino calmo nel pomeriggio temperature differenze leggere e moderate sulla pianura in andamento regolare sui monti in calo di notte e in aumento di giorno è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina a luna ora locale italiana a voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM la web radio dell'associazione belonesi nel mondo di Radio ABM la web radio Grazie a tutti.